L'Italia si è configurata come un'unità non solo geografica ma culturale, civile, già dai tempi dell'antica romana res pubblica che si è sovrapposta a popolazioni che in parte inizialmente in rivolta contro Roma hanno voluto darsi la denominazione di italici e queste popolazioni appartenevano a etnie diverse e soprattutto per quello che ci interessa a etnie di lingua profondamente diversa, alcune indoeuropee come gli etruschi, i liguri probabilmente, altre indoeuropee ma assai diverse tra di loro come le popolazioni di lingua greca o quelle umbre, osche o celtiche nel nord dell'Italia. Il modo in cui la Repubblica Romana e poi l'impero ha latinizzato queste popolazioni è stato un modo decentrato, non pianificato, ciascuna popolazione ha imparato come voleva e poteva man mano in tempi diversi il latino, è imparato a parlarlo quindi in modi notevolmente diversi, in alcune zone dell'Italia non solo antica ma medievale come nel sud dell'Italia nelle aree in cui si parlava greco, la latinizzazione è avvenuta soltanto all'inizio dell'età moderna e naturalmente non sopravvivono come sappiamo in Italia le antiche parlate pre-latine, nessuno parla etrusco, nessuno parla celtico, però le antiche parlate sono sopravvissute nella forma del latino parlato in forme diverse da una zona all'altra dell'Italia, cioè sono sopravvissute nella forma dei dialetti. Questa molteplicità nativa di idiomi diversi, perché bisogna ricordare che i dialetti italiani sono profondamente diversi tra di loro per tipologia, per grammatica, per lessico, questa pluralità non è stata cancellata nei secoli dell'età moderna, a sua volta come già era avvenuto per il latino in età antica, l'italianizzazione è avvenuta attraverso un processo di convergenza molto lento delle diverse popolazioni del paese, perso l'apprendimento e l'uso della lingua italiana, ma questo processo si è completato soltanto nei nostri anni più vicini a noi, non certo nei secoli dell'Italia preunitaria, che oltretutto ha visto arricchirsi il panorama delle lingue native, degli apporti creati attraverso migrazioni di albanesi, di greci bizantini o attraverso sovrapposizioni, penetrazioni di parlate tedesche nella provincia di Bolzano e di Belluno, di sloveni nella provincia di Trieste e di Udine. Quindi l'Italia della Repubblica, nella quale oggi viviamo, è un paese nativamente segnato da profonde diversità linguistiche. L'italiano, una quindicina almeno di grandi gruppi dialettali diversi, una molteplicità di lingue di minoranza. Quando l'Unione Europea, quando il Parlamento dell'Unione Europea doveva preparare anni fa la carta delle minoranze linguistiche in Europa, ci siamo accorti che dei grandi e piccoli paesi dell'Unione Europea l'Italia era quello più ricco di minoranze linguistiche, quelle minoranze che avrebbero avuto diritto secondo l'articolo 6 della Costituzione del 1948 a una legislazione di tutela. E già il riferimento a questa legislazione ci dice qualche cosa, perché di tutti gli articoli della Costituzione, quello forse più difficoltosamente attuato è proprio l'articolo 6 della Costituzione che prevede la tutela delle minoranze linguistiche. Le leggi di tutela che sono state presentate dagli anni 70 in poi in Parlamento, sono state tutte fatte cadere fino miracolosamente al 1999, quindi 51 anni dopo la Costituzione, con una legge che alcuni ritengono non brillante, ma che comunque è una legge di tutela di quasi tutte le minoranze linguistiche, non tutte, alcune sono rimaste colpevolmente escluse. Questa difficoltà di approvazione della legge è anche la lunga ostilità che ha accompagnato l'esistenza di dialetti in Italia, la lunga ostilità del ceto colto, per esempio delle grandi storie della letteratura del paese, che per molto tempo hanno ignorato l'esistenza di fiorenti letterature dialettali. Ecco, questa difficoltà e questa ostilità la dicono lunga. L'Italia è un paese nativamente segnato da un plurilinguismo molto forte rispetto agli altri paesi europei. Questo non è solo un fatto linguistico, questo ha a che fare direttamente con quello che grandi storici tra l'Ottocento e il Novecento hanno visto, mi riferisco a Sismonde dei Sismondi o a Carlo Cattaneo o ancora nel Novecento a Fernand Brodel, i quali hanno più volte ricordato, hanno avuto modo di ricordare che rispetto a ogni altro paese europeo l'Italia è contrassegnata da una pluralità di città capitali, di città ciascuna delle quali ha un suo costume, una sua capacità di radiazione autonoma, da Palermo a Venezia, a Torino, una sua politica estera per così dire attraverso i secoli e fa corpo con questa pluralità di città capitali la pluralità di dialetti non solo popolari o che servano la vita quotidiana e basta, ma di dialetti illustri, come illustri sono molte delle lingue di minoranza e comunque tutte meritevoli di diritto all'esistenza. e questo ho citato alcuni storici, ma questo non è che sia passato proprio nella comune cultura, che ci sia questa molteplicità nativa, oggi preferiamo dire questo multilinguismo nativo in Italia e anzi c'è dell'ostilità e della difficoltà a riconoscerlo. Questo si riflette, questa chiusura si riflette anche in un altro aspetto, e cioè nella pigrizia, chiamiamola così, ad aprirsi all'apprendimento delle grandi lingue straniere di cultura. Questo è un tratto che contrassegna la Gran Bretagna, ma questo è spiegabile, comprensibile per il ruolo planetario che ormai ha l'inglese e si capisce che un nativo anglofono non ha grande interesse a imparare troppo le altre lingue straniere. Fa male probabilmente, però c'è una spiegazione. Nel caso dell'Italia questo è davvero incomprensibile. Noi avremmo bisogno vivamente, come gli altri paesi europei, di imparare non solo l'inglese, ma le grandi lingue europee di cultura. Non lo facciamo, la nostra scuola non lo fa, la nostra università ha rifiutato a lungo il compito di insegnare attivamente nella pratica le lingue straniere, considerando questa una materia, come un illustre accademico diceva, una materia da portieri d'albergo, come se quella di portiere d'albergo non fosse una professione complessa e degna di ogni rispetto. Magari dalle nostre università uscissimo sapendo le lingue come dovrebbero saperle i portieri e sanno i portieri d'albergo. Dunque una chiusura di cui soffriamo in una misura curiosamente inversa al multilinguismo nativo, cioè una ignoranza clamorosa delle lingue straniere. E in tutto questo si colloca quello che è stato studiato così bene in questo rapporto, cioè lo scarso grado di effettivo riconoscimento dell'esistenza di lingue di minoranza native a cui si accompagna oramai lo scarso riconoscimento negli uffici, nelle scuole delle nuove minoranze che si stanno creando. Il 7% della popolazione italiana oggi è fatto da persone di lingua assai diversa dall'italiano. Tutta questa ricchezza trova difficoltà avere riconoscimento nella pratica degli uffici e purtroppo anche nella pratica delle scuole.